Domani alle ore 11 si trarà l'inaugurazione del nuovo blocco operatore della nuova tacca del Presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Il taglio del nastro avverrà alla presenza del commissario straordinario Aslo Salerno Mario Iervolino, del subcommissario sanitario Vincenzo D'Amato, del sindaco di Vallo della Lucania Antonio Aloia, del vescovo Monsignore Ciro Miniero, dei vertici e del personale del Presidio ospedaliero. Il blocco operatorio, situato al sesto piano del Presidio sanitario, è stato sottoposto ad importanti lavori di ristrutturazione, modernamento e messi in sicurezza che hanno interessato le cinque sale operatori e la sala risveglio. È stata altresì installata un'attacca di ultimissima generazione, apparecchiature in grado di praticare un'attacca total body in soli 11 secondi.